Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiusura totale, la vedo in televisione, nessun corteo per le strade. Chiusura totale, una panacea inefficace. Aspetto una chiamata, mi allunga la vita. Aspetto una chiamata. Pochi secondi, un'attesa infinita, cambiamento. Comincio a fare effetto. Volo sempre più in alto. 10 chilometri, 20 chilometri. 30 chilometri, 40, in quota. Ionosfera. Ionosfera. Grazie. 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 Grazie.